Se ho portato la fumarola non posso neanche bloccare il foglio, mi penso. Mette il tuo naso sul tuo culo e si apposta. Fai una scorreggia. Vieni qua che te la faccio io. E come fare le azioni di... No, veni sabato scorso per mangiare la cassola. Allora si che guardi. E i fenoturi di cuore. Vieni come tirare subito qua. Non è uova. A forza. E' 10 giorni che mangi la cuore. Grazie ragazzi. Il ricordo di una cassa di vino. Chi deve mettere lo zaino? Oh Zambi, il ricordo di una cassa di vino. Prova a accendere e vedere. Non so mai. E' preoccupante se non vanno. C'è lo zaino. Dica ma avete fatto raffreddare. Ma chi mi riscalda a me? Guarda che quello sta facendo... sta macinando loro. scusami. Non c'è... Ma non ci penso neanche! Ascolio, andate qui da posto Mettetelo sulle palle C'est parti C'est parti C'est parti un colpo un colpo un colpo un colpo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti